ventiquattresima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi, tratto sempre dal Vangelo secondo Marco, è un Vangelo importante, significativo, che adesso ascoltiamo. Siamo al capitolo 8, dal versetto 27 al versetto 35. In quel tempo Gesù partì con i Suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i Suoi discepoli dicendo, la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profetti. Ed egli domandava loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. Io ordinò loro severamente di non parlare di Lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a riproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i Suoi discepoli, riproverò Pietro e gli disse, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla, insieme ai Suoi discepoli, disse loro, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneggi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Questo è un Vangelo importante perché siamo in un punto di svolta nel Vangelo secondo Marco. Gesù interroga i discepoli, fa una domanda importante, dopo quello che lui ha detto, ha fatto, insegnato. La gente chi dice che io sida? Ecco che allora le risposte che danno apparentemente sembrano anche risposte belle, importanti. Giovanni il Battista, Elia, il grande profeta Elia che si aspettava che venisse, che arrivasse poco prima dell'avvento del Messia, o comunque un profeta. Quindi una persona comunque inviata da Dio. Ma ovviamente siamo su un piano molto diverso per riuscire a capire chi veramente è Gesù. Allora a questo punto Gesù chiede loro in maniera più esplicita, ma voi chi dite che io sia? Un conto è la gente, in fondo non stavano con lui, non vivevano con lui e quindi potevano anche riuscire a non capire bene fino in fondo. Ma adesso lo chiede ai discepoli, voi chi dite che io sia? Ecco allora Pietro dà una risposta che è importante. Tu sei Cristo, il consacrato, l'unto, quindi qualcosa di più di un profeta. Quindi Pietro fa una professione di fede importante, ma è una professione di fede ancora incompleta. Non basta dire che Gesù è il Cristo. Bisognerà aggiungere qualcos'altro. però è già una meta alta, importante. Dice bene, fermi, non dite più nulla. E adesso Gesù inizia una catechesi nei confronti dei suoi discepoli. Incomincia a prefigurare quale sarà la sua sorte. Dice il figlio dell'uomo, cioè dice Gesù, io, io dovrò soffrire, essere rifiutato dai capi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Ecco, Gesù anticipa il suo mistero casquale. E lo diceva in modo chiaro, aperto, dice l'Evangelista. A questo punto Pietro non ci sta più. Lo ha riconosciuto come Messia, però non può accettare quello che Gesù sta dicendo. Dice no, è possibile, non va bene così. Lo rimprovera. A questo punto Gesù gli dice mettiti dietro a me, Satan, Satana. Cioè colui che pone una pietra d'inciampo, colui che vuole ostacolare. Gesù deve stare davanti. Questo vale sempre, anche per noi, oggi. Sia come singoli, sia come comunità. Gesù è colui che sta davanti, è colui che detta il cammino, le linee guida. Noi stiamo dietro a lui, apprendiamo da quello che lui dice. Ci mettiamo alla sua sequela. Se invece vogliamo metterci davanti, ecco che noi diventiamo Satana, diventiamo qualcosa che mette un inciampo, una pietra, un ostacolo. E questo bisogna che la Chiesa lo capisca bene, soprattutto in questi tempi brutti, in cui si vuole mettere davanti tanti, tanti altri, tante cose, tanti idoli, pensando che siano quello la salvezza. Quante volte anche per televisione, giornalisti e purtroppo anche qualche pastore, presenta un rimedio umano come se fosse la salvezza. No? Solo Cristo è la salvezza. Quindi dobbiamo metterci dietro a lui, non davanti a lui. E poi Gesù continua parlando della croce. Chi mi vuole seguire, venga dietro, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegare se stessi vuol dire capire che non siamo noi il centro, ma il centro è lui. Quindi il cristiano, in fondo, deve essere una persona un po' scentrata, perché non dobbiamo essere ripiegati su noi stessi, non siamo noi il centro di tutto, ma è Cristo. La croce, perché lui ha dato l'esempio, ci fa capire che attraverso la via della croce, che è una via faticosa, impegnativa, ma è una via di verità, perché è Cristo, via, verità e vita. E poi parla del perdere la vita, che se viene persa a causa di Gesù e del suo Vangelo, quella vita che agli occhi del mondo può essere una vita di uno sconfitto, di un perdente, in realtà è la vita di un vittorioso. Pensiamo ai martiri, pensiamo ai santi in generale, ma anche tutte quelle persone che anche nel nascondimento, senza avere pubblicità sui mezzi di comunicazione, senza avere seguaci che seguono sui follower, follower, eccetera. Sono veramente discepoli di Gesù, che vivono anche nel nascondimento la loro fede in Gesù, portando dei tesi, delle croci, offrendo, pregando per la salvezza del mondo. Dobbiamo farlo anche noi, soprattutto in questo tempo buio, in cui sembra a volte che anche nella Chiesa il grande assente sia proprio Gesù. Certamente lo è nel mondo, non interessa, basta accendere la televisione, i rimedi, viene detto, sono altrove. No, Cristo deve essere il centro. Quindi la domanda Gesù la pone anche ognuno di noi. Ma tu chi dici che io sia?